Oro Rosso di Altino è il titolo di questa pubblicazione scritta da Tino Bellisario che è anche in ambito di ristorazione abbastanza esperto visto che il fratello gestisce un importante locale a Selva di Altino. Ma volevamo chiedere qual è stata la motivazione per la quale ha deciso di scrivere questo libro? Un libro si scrive se uno è innamorato. Io sono stato seduto dal peperone dolce di Altino. Quindi è una fase di innamoramento, ho scritto questo libro. Non è una cotta? No, no, è una seduzione che continua. Io sono stato seduto, noi a Altino siamo stati seduti dal peperone per il suo carattere, per la sua personalità, per la sua trasgressione. Quindi il peperone dolce di Altino e l'oro rosso di Altino e il libro non è altro che un progetto per la nostra comunità. Come è strutturata questa pubblicazione? Il libro ha un contributo di personalità come Pappagallo, caporedattore del Corri della Sera, il direttore scientifico del Mario Negri Sud, Tognoli, Gino Primavera e altri amici che hanno dato un contributo scrivendo degli articoli che sono riportati sul libro. Poi il libro si divide, c'è una parte dove ci sono le ricette col peperone, dove Gianni di Carlo Antonio ha dato un contributo notevole, perché lui è coautore con me del libro. E quindi c'è il contributo di ricette di chef famosi della zona. Avrà un seguito questo libro? Io mi auguro di sì. Il libro è un esempio di come un prodotto della biodiversità possa creare un'economia, perché non è soltanto la produzione di peperone rosa, è la trasformazione, la commercializzazione e la possibilità che hanno i ristoranti di utilizzare le ricette col peperone, i negozi di pasta fresca, la realizzazione del museo di Altino. Ecco, un altro particolare che volevo dire è che non esiste sviluppo culturale, cioè sviluppo economico, se non c'è di pari passi lo sviluppo culturale. Quindi la cultura con il museo, l'os di Serranel, la biodiversità. Alessio Pappagallo del giornale Punto Itz è il moderatore di questo interessante convegno al Festival del Peperone Dolce di Altino. Come ti giostrerai tra questi esperti del mondo enogastronomico? Allora, ci sarà una prima parte dedicata alla tradizione, in cui Eva Martelli, la nostra attrice, reciterà le parole di Antonio Bellisario, anziano coltivatore del peperone. Poi passeremo alle nuove generazioni con Donatello D'Alonso, per poi passare a una seconda parte del convegno, in cui lo chef Alessandro Circello, della RAI, conduttore su RAI Gulp di ricette per ragazzi, parlerà insomma del peperone dolce altino come prodotto sano, da utilizzare in una cucina appunto sana, visto che lui è chiamato anche lo chef della salute, e poi Slow Food, avremo il segretario regionale Abruzzo di Slow Food, Antonio Di Caro, zootecnico, che parleranno anche loro di, diciamo, della parte più gastronomica di questo prodotto. Elia Giancristoffero parlerà di folklore e antropologia a conclusione del convegno, prima del festival di aprire le danze, insomma. Sul sito ilgiornale.it è l'argomento principale di cui ti occupi o fai anche altro? Mi occupo anche di comunicazione, pubbliche relazioni per varie aziende, e sulgiornale.it appunto di salute, e quindi stiamo parlando, stiamo in tema, diciamo, un prodotto sano e un po' quello di cui mi occupo tutto l'anno, insomma sulgiornale.it. Alessandro Circello è il conduttore di una trasmissione di cucina per i ragazzi su RAI Gulp, è un fatto positivo questo, anche perché in questa manifestazione si vuole mantenere vive le tradizioni e i ragazzi, soprattutto nell'ultimo periodo, sembrano prestare molta attenzione al mondo della cucina. Beh, in questi anni si parla tanto di alimentazione e di cucina, magari anche nel senso folcolistico del termine, quindi c'è molta tendenza, quindi questo sta anche nel fiori delle scuole alberghiere e di tanti elementi. In questo caso dare dei messaggi a dei giovani che cucinano, alle mamme, per dire, quindi dare dei messaggi, disegnare corretta alimentazione, dato che anche da alcuni dati importanti, anche del Ministro della Salute, dai bambini ci sono tantissimi in Italia, prima eravamo il secondo paese, siamo il primo paese in Europa a rischio obesità, quindi piuttosto che prendere tante merendine con grassi etrogenati o prodotti preconfezionati, fare una sana colazione, una merenda, quindi preparare qualcosa in maniera sana, con tanti ingredienti, quindi il mondo ci invidia. Poi in questo momento, in estate, abbiamo la frutta e verdura, la migliore, la più buona, e quindi possiamo fare tante confetture, crostate, dolci, che possono preparare a casa, per poi portarla a scuola, nella merenda, nella pausa del pomeriggio, della palestra. Tornando invece alla sua attività professionale in Rai, questa trasmissione, che io onestamente, non essendo un bambino non seguo, però probabilmente i miei figli sì, di che cosa si parla? Rai Culpe è un canale di Rai Ragazzi, uno dei più seguiti d'Europa, ricette per ragazzi, poi è il titolo del mio ultimo libro, edito sempre da Rai Eri, quindi si parla dei consigli su come preparare una colazione, un pranzo, una merenda, una cena, con ingredienti semplici e soprattutto sani, perché i ragazzi ovviamente mangiano tante altre cose, quindi per carità va bene a volte, ma anche la patatina fritta, non ho detto che la patatina fritta deve essere una fettina panata, l'importante è farla nel modo giusto e magari prepararla a casa e poi portarla in giro, quindi dei piccoli consigli, suggerimenti per realizzare poi delle ricette semplici e salutari. Il signor Antonio Di Caro, di Guida del Gusto per il Gal Maiella Verde, ci presenta invece la sua relazione all'interno del solito convegno che si tiene all'apertura del Festival delle Contrade del peperone dolce di Altino, di che cosa parlerà lei nello specifico? Sono lieto di partecipare a questo evento che si discosta dalle solite sacre paesane perché suscita in me un grande interesse essendo il luogo e il posto in cui viene rappresentato interessante per quanto riguarda il prodotto da presentare che è in questo caso il peperone dolce di Altino che è uno dei dieci prodotti che il Gal Maiella Verde che io sto rappresentando vuole salvare insieme alla ventricina del Vastese. I Gal Maiella Verde sono gruppi di azione locale e sono partenariati regolarmente costruiti e beneficiari dell'iniziativa comunitaria leader. Rappresentano l'espressione equilibrata e rappresentativa dei soggetti istituzionali e socio-economici del territorio. In questo incontro io parteciperò con una relazione sia sulla ventricina che si accosta molto al peperone nel senso che come guida del gusto ho seguito entrambe i prodotti. Sono quattro anni che porto alcuni produttori della ventricina al campionato italiano del salame tramite l'accademia delle 5T e ogni anno questi produttori ricevano dei premi importanti e nel 2013 hanno vinto il primo e secondo premio ex equo con due produttori che sono la ventricina La Noce di Montazzoli e un altro produttore sempre del Vastese che è di Fiore Stefano di Fresa Grandinaria. Il peperone dolce è uno degli ingredienti principali della ventricina infatti nella sapiente amalgama che viene fatta tra la ventricina che viene tagliata in pezzi non regolari il peperone è quello che rappresenta uno degli ingredienti più importanti. Il peperone conferisce alla ventricina un tipico colore rosso-arancio che chiaramente quando la ventricina viene tagliata e viene servita in maniera particolare perché deve essere tagliata in maniera doppia e deve essere sgranata a mano il prodotto si presenta diciamo molto bene sia come visivo e sia dal punto di vista visivo e sia dal punto di vista gustativo. Ci sono molte sagre a cui la ventricina partecipa e chiaramente attira molta gente. Concludendo invito tutti i presenti a scoprire queste specialità che vanno protette e tramandate e per poter salvare questo nostro patrimonio gastronomico cercando e utilizzando i prodotti dell'enogastronomia abruzzese affinché i veri produttori possano proseguire in questo difficile lavoro che hanno intrapreso. Il nostro aiuto farà sì che loro possano seguitare, produrre e crescere.